In questa video guida parliamo di scanner portatili. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Lo scanner portatile si rivela molto utile nel caso in cui si abbia poco spazio in casa o sulla scrivania, eppure essendo di dimensioni molto ridotte assicura comunque una buona qualità dell'immagine. Il suo utilizzo è molto semplice, basta passarlo sui documenti da scannerizzare e l'immagine acquisita viene salvata su una scheda microSD invece che sul computer come i normali scanner, dopodiché potrà essere processata mediante software fornito con lo scanner stesso. Alimentati in genere con normali batterie AA, alcuni modelli funzionano con batterie ricaricabili o tramite collegamento USB al computer. Infine esistono scanner portatili dotati di funzione di condivisione Wi-Fi che utilizzano la rete wireless per condividere le scansioni effettuate direttamente con smartphone, PC o tablet.